Oggi per gli incontri esistenziali nelle breaking news, così le abbiamo chiamate, abbiamo un ospite particolare, Fyodor Dostoevsky. In realtà il nostro ospite è professore di slavistica all'Università di Urbino, il professor Giuseppe Ghini, esperto appunto dello scrittore russo, e con lui vogliamo chiacchierare di Dostoevsky per una ragione innanzitutto congiunturale, che è il duecentesimo anno, se non abbiamo errato, della nascita. Perché, ah no, facciamo un'altra domanda per eliminare, è realmente conosciuto ancora Dostoevsky? I millennials, i ragazzi del terzo millennio, sanno chi è, hanno un'idea di questo scrittore? Bene, buongiorno anzitutto e grazie di questo invito. Devo dire che io sono abbastanza disilluso nei confronti delle capacità di lettura dei millennials. Qualche anno fa i miei studenti del primo anno che si scriveva una letteratura russa, ho chiesto di dire, di presentarsi brevemente, di indicare un libro che li aveva colpito. E praticamente tutti hanno indicato libri che erano stati costretti a leggere per esigenze scolastiche. Secondo me questo è veramente drammatico, veramente drammatico. Devo dire che in realtà se i giovani d'oggi devono leggere, beh, infinitamente meglio che comincino da Dostoevsky, da qualcosa che li prende, da qualcosa di bruciante, che non da cinquanta sfumature di verde, giallo, blu, quello che è, insomma. Però, appunto, per convincere il millennials, ma non solo il millennials in verità, penso a tutte altre, a molte altre categorie. Cosa diresti di Dostoevsky? Perché oggi ci devi interpellare, ci interessa, perché è moderno ancora? Continuo a rifarmi all'esperienza di qualche mio corso. Qualche anno fa ho tenuto un corso sulle questioni maledette nella letteratura russa. A me sembra che il centro sia ancora quella. Cioè, sono così estranee quelle questioni maledette ai giovani di oggi? Oppure i giovani di oggi aspettano che qualcuno eh disveli, tolga un velo e e e gridi, come fa Dostoevsky a loro, basta occuparci di sciocchezze, parliamo di cose serie, parliamo di delle cose che ci ci toccano al fondo, oppure non c'è più niente che ci ci interpella. Parliamo di che senso vogliamo dare alla nostra vita? Chi può dare un senso? Che cosa può dare un senso alla nostra vita? Eh ancora il senso della bellezza. Qual è il senso della bellezza? Perché esiste a volte una bellezza traditrice? Eh qual è il senso del male? Siamo colpevoli noi per il male che ci troviamo intorno oppure possiamo essere esentati da quel male? Facciamo allora un esercizio accademicamente inopportuno probabilmente, però continuiamo ad aiutare questo millennia che vogliamo avvicinare a Dostoevsky. Se dovessi scegliere tra i tantissimi straordinari personaggi che ha narrato Dostoevsky, i primi tre, i tre a cui approcciassi per prima, a cui un giovane e comunque chi voglia conoscere questo scrittore si debba avvicinare. Da dove partire? Da quali personaggi partire? Quindi da quali storie? So che è difficile per te. No, secondo me dipende. Eh tra l'altro dipende dai periodi della vita. Un periodo più romantico, le notti bianche secondo me assolutamente. Eh un periodo più di crisi, io direi di di immergersi in delitto e castigo e di 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 uscire con Raskolnikov da 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 queste ideologie di delitto e i fratelli Karamazov. Secondo me rimangono davvero il il più grande romanzo di Dostoevsky. Su cui hai fatto la tesi di laurea se non se non ricordo male. La storia del mio rapporto con Fratelli Karamazov è molto buffa nel senso che comincia prestissimo. Stavo ero al mare da solo con mia nonna, stavo male e i miei genitori mi portarono un libretto che si intitolava ragazzi ed era la storia del dei dei ragazzi dei fratelli Karamazov e la cosa buffa è che dopo per anni io continuavo andare nelle librerie e chiedere un libro dicendo io cerco un libro bello come e poi raccontavo di questo ragazzi ma nessuno lo conosceva perché erano i fratelli Karamazov sostanzialmente. Poi sì ci ho fatto la tesi di laurea, ho fatto la tesi la tesi di laurea con il professore che aveva ti aveva tradotto e fatto quell'antologia di ragazzi dai dai fratelli Karamazov. Proviamo a farci adesso qualche domanda per qualcuno che conosca di più Dostoevsky che credo ci sia comunque in circolazione. È uno scrittore che sicuramente ha goduto e gode molta fortuna che nel mondo cattolico credo di poter dire e tuttavia lui era ostile la chiesa cattolica come riesce a spiegare questa questa apparente contraddizione se le cose stanno come come ti ho posto in questa domanda. Allora secondo me il fatto il fatto importante è che al di là dei pregiudizi al di là di quello che uno inevitabilmente respira dal suo tempo Dostoevsky riesce andare oltre oltre i riti oltre le differenze disciplinare oltre i pregiudizi anche anticattolici tipici di tanti ortodossi e raggiunge il nucleo della fede. C'è un un grande critico letterario George Steiner che dice che la grande differenza tra i romanzi occidentali e i romanzi russi dell'ottocento è proprio nel fatto che quelli hanno sono fondati su una metafisica cristiana e in questa metafisica cristiana Dostoevsky raggiunge subito il nucleo e nel nucleo in realtà ci si incontra. Il nucleo è il nucleo della fede non è la differenza dei riti non è perciò in quello quello vedevano i tanti scrittori eh cattolici per esempio del dopo del secondo dopoguerra che si sono innamorati Dostoevsky. Oggi Dostoevsky ha degli imitatori credibili ha dei seguaci tra virgolette. Io credo che sia molto difficile non ne conosco perché il problema il problema non è solo di chi è che ha fatto lo stesso percorso di Dostoevsky chi è che è passato così attraverso come lui diceva il crogiolo del dubbio per arrivare alla fede. Il problema è piuttosto eh chi è che ha il coraggio di di rispettare così i suoi personaggi no? Nella critica letteraria si parla di Dostoevsky come inventore della polifonia. Polifonia vuol dire che lui non racchiude i suoi personaggi sotto il mantello della della sua visione del mondo ma eh li dota di una visione del mondo propria per questo Ivan Karamazov che pure la pensa sicuramente non come Dostoevsky è un personaggio così grande così robusto perché Dostoevsky gli dà tutto tutta la sua forza eh chi è il chi è lo scrittore cristiano che oggi ha il coraggio di presentare un personaggio che Dostoevsky dice esplicitamente essere eh un personaggio cristico come l'idiota che fallisce così miseramente dal punto di vista umano ci vuole un grandissimo coraggio una grandissima fiducia nell'uomo io credo che questa sia la grande differenza non abbiamo degli scrittori così coraggiosi non abbiamo degli scrittori che hanno questa fiducia nella capacità umana di comunque di raggiungere la verità. A parte quello che tu scrivi su questo scrittore del quale sei espertissimo in questo duecentenario o comunque in questi anni recenti hai visto uscire qualche saggio che meriterebbe di essere letto che ci ha fatto scoprire qualcosa su questo scrittore? Ma sono molti uno eh proprio prima parlavo di polifonia l'inventore lo scopritore della polifonia in Dostoevsky che è Mikhail Bakhtin sicuramente ha scritto delle cose delle cose molto belle molto molto scusa reperibili in italiano reperibili in italiano sì 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 eh molto molto estreme però molto interessanti un altro secondo me proprio per per vedere la differenza è il libro di di Romano Guardini su Dostoevsky Romano Guardini accetta proprio una differenza dove non capisce si ferma e dice questa deve essere una una mentalità diversa dalla mia la rispetto non la capisco però è diversa però è davvero davvero interessante secondo me è molto molto bello vedere il confronto tra le culture ti faccio una domanda forse più complicata più nel merito ma ci è capitato a noi di incontri esistenziali di recente di assistere a un docufilm sulla Madonna Sistina che sappiamo essere un quadro che affascinava incredibilmente Dostoevsky un capolavoro di Raffaello lo diciamo per chi per i pochi che non lo conoscessero ci sai dire perché lui era così affascinato tanto da metterlo in alcuni suoi racconti sì c'è un motivo storico principale che è che la Madonna Sistina si trovava a Dresda e Dresda era sulla via di uscita dalla Russia sia da Mosca sia da San Pietroburgo per andare a Berlino a Parigi e perciò tutti i russi che uscivano e praticamente tutti i russi che avevano un minimo di cultura erano praticamente obbligati a fare un grand tour passavano per Dresda e la Madonna Sistina diventa molto presto eh a partire da Zhukovsky a partire da Pushkin che pure non l'aveva mai visto però dedica un sonetto alla Madonna Sistina eh diventa il simbolo della bellezza e la domanda che tanti si pongono Dostoevsky a tanti personaggi di Dostoevsky per esempio nei demoni si si pongono è cosa vale di più? Vale di più un barile di petrolio o la Madonna Sistina? Vale più un un paio di stivali o eh lo nieghina cioè la Madonna Sistina diventa l'emblema della bellezza e la bellezza è un valore di lunga durata nella cultura russa un valore che come dire parte fin dall'inizio è il motivo che i cronisti dicono essere alla base della conversione dei russi nella forma della della del cristianesimo bizantino no dicono eh non non ci sembrava di stare in cielo perciò perciò eh eh Vladimir il santo si converte al 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 rito bizantino alla forma bizantina della 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 cultura cristiana della religione cristiana e è lo stesso eh come dire questa la bellezza è quello di cui discutono nell'ottocenti romanzieri e poi quello che eh la grande ballerina e Vaganova riesce a a far far vinto con cui vince con il valore della bellezza vince la ritrosia dei bolscevichi nei confronti del balletto e li convince che c'è qualcosa di bello che vale la pena conservare anche nella Russia bolscevica e poi dopo per per venire a oggi eh che so eh il problema della bellezza anche esteriore eh non esiste paese in cui ci sono tanti saloni di bellezza come in Russia incredibile che questo è molto interessante ci lasciamo riprendendo quello che vi hai detto all'inizio all'inizio ti sei detto scettico sulla sul fatto che i millennials si approcciano alla lettura si approcciano a Dostoyevsky confermi questo scetticismo oppure c'è speranza che questo grande patrimonio non vada perduto no io credo che non non andrà perduto perché Dostoyevsky ci presenta anticipatamente profeticamente l'uomo di oggi l'uomo contraddittorio di oggi l'uomo sottosopra Dostoyevsky non presenta non si sofferma neanche a a svelare la laccatura borghese della società ci presenta proprio l'uomo completamente sottosopra l'uomo che nella non nonostante la sua fragilità incontra la salvezza cristiana ma nella sua fragilità forse grazie alla sua fragilità incontra incontra la salvezza cristiana perciò questo secondo me eh è vero oggi era vero per Dostoyevsky ed è vero ed è vero anche oggi servono quindi e chiudiamo con questo questi centenari in questo caso due centenari osservano qualcosa abbiamo avuto anche i sette centenari di di Dante Lighieri servono qualcosa o sono dei riti ormai stanchi secondo me servono eh dove c'è un un lavoro in profondità dove c'è la possibilità di incontrare davvero eh uno scrittore in profondità e quando uno scrittore ci si presenta ci presenta i suoi valori ci presenta la sua visione del mondo ci presenta ci presenta la sua come dire attraverso una narrazione che è la cosa più che adesso va per la maggiore no tutti parlano di 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 storytelling bene allora attraverso questo ci può catturare ci può presentare le chance e ognuno di noi deve trovare le sue chance allora speriamo di aver fatto venire voglia di leggere di incontrare Dostoyevsky e anche altri con questa chiacchierata che è stato un aperitivo no non abbiamo fatto un discorso accademico approfondito però speriamo di essere riusciti in questo scopo con gli amici di incontri esistenziali con chi ci seguirà su youtube professore grazie e buon lavoro buona lettura buona educazione degli universitari urbino e altrove ciao gianni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti